Intenzione di servire Mariani, riesce però a dare un buon pallone Mariani per Briaschi al centro dove trova Neri E prova Carrara e poi Briaschi, ancora Briaschi in area, prova Briaschi ed è il gol! Ed è il gol dell'Alessandria! Bellissima l'azione dell'Alessandria Andrina Lunghissima la sua battuta, una spintonata in area evidentissima ai danni di Mazzeo e poi di Bine E' il gol del 2-0! Il gol di Mazzeo! 2-0! Finalmente Mazzeo si è tolto la pelle dell'Orso E' stato comunque duro lo scontro tra Fogli e Rocchigiani La battuta di Luperto E' il gol! Il gol di Brogi Il gol di Brogi al 44esimo minuto abbondante del primo tempo Ed è lo stesso Depoli che mette il pallone a terra e va la battuta Sulla sinistra a cercare Tovaglieri, su di lui sempre Chiti Tovaglieri al centro La testa è quella di Brogi Brogi si ripete ed è 2-2 Comunque evidentemente egli è meglio posizionato di noi Avrà visto e avrà giudicato Di Bine sulla sinistra, il suo traversone al centro La testa di Mazzeo Arriva Mariani ed è il gol Del 3-2 Il Moccagatta è in piedi